Vecchi pneumatici, scarti in plastica, addirittura scarpe logore e quel che resta di una panchina. L'ammasso di sporcizia in un'area all'immediata periferia di Sernia, nei pressi di via Veneziale, è motivo di malcontento per i residenti delle palazzine che sorgono poco distante dalla ferrovia. Proprio tra i rovi che costeggiano la strada ferrata, l'indecente spettacolo di questa vera e propria discarica a cielo aperto. Non è l'unica in cui ci si imbatta nelle zone periferiche della città, lì come altrove, attraverso i nostri microfoni, il disagio di qualche residente esasperato che chiede agli enti preposti di intervenire e di vigilare. Chiediamo una maggiore attenzione che non sia solo nei momenti in cui ci sono le elezioni amministrative. Prima delle elezioni amministrative si è avuta una maggiore attenzione di queste zone, di questi prati, di queste periferie della città. Non capisco perché ora viene un po' lasciato tutto nell'abbandono più assoluto. Anche perché poi è una cittadina piccola, di forze dell'ordine ce ne sono anche in modo sproporzionato rispetto alla piccola realtà che è la città di Sernia. Basti pensare che c'è una caserma dei carabinieri, c'è una questura, c'è un comando dei vigili urbani, c'è la guardia di finanza. Non dovrebbe essere un gioiellino questa città, dovrebbe essere super controllata in ogni aspetto. Insomma il copione è sempre lo stesso, così come l'auspicio che la richiesta di intervento dei cittadini sia effettivamente accolta e soddisfatta. Grazie a tutti.